Dal 16 gennaio 2008 il territorio aquilano è interessato da un particolarissimo, chiamiamolo così, sciame sismico. Siamo con Gianpaolo Giuliani, che è tecnico di ricerca presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, che ci aiuterà a capire qualcosa di più. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Questo sciame sismico non è eccezionale, avviene praticamente tutti gli anni. Quest'anno, a differenza degli altri anni, le scosse sismiche sono state leggermente più intense, tanto da essere avvertite dalla popolazione che, avendo paura del terremoto, si domanda come mai questi eventi. Ma in realtà gli sciami sismici si verificano, specie nella nostra zona, tutti gli anni. E come mai allora quest'anno c'è questa sensibilità maggiore? Tante persone si domandano se possa essere, ad esempio, una mutazione del clima? Assolutamente no. Quest'anno ci siamo trovati in una situazione particolare. Diciamo che gli sciami e i terremoti avvengono con una maggiore frequenza nel periodo invernale, periodo che va tra novembre, marzo, aprile, e diminuiscono di frequenza nel periodo primavera-estate. E a motivo di essere scientificamente questa cosa, noi l'abbiamo rilevata attraverso l'analisi dei dati prodotta dal nostro strumento che ci permette, ci ha permesso di avere una maggiore conoscenza sulle caratteristiche del Radon. Quindi mi sta parlando di possibilità di prevedere qualcosa che la scienza ufficiale ci dice che è impossibile prevedere. Come la mettiamo? È proprio così, è vero. Con la tecnologia che utilizza oggi la scienza per vedere i terremoti, non è possibile, non sarà mai possibile prevedere un terremoto. La scienza utilizza il sismografo che permette di vedere l'evento dopo che si è verificato. Utilizza i classici radometri che permettono di vedere il Radon, ma non permettono di rilevare il precursore sismico contenuto nel Radon. Lo strumento che noi abbiamo fatto, all'inizio non pensavamo di ottenere questi risultati, ci ha permesso di rilevare nel continuo di questo elemento il precursore sismico che si presenta da 6 a 24 ore prima di un terremoto. E questo sistema, diciamo così, può avere una valenza sociale secondo lei? Certo. Non solo, ma poter controllare grandi edifici, ponti, viadotti ed avere la possibilità di sapere in anticipo l'evento disastroso che si potrà verificare. Dove sono queste stazioni? Ecco, quindi evidentemente non è un macchinario, io lo chiamo così perché, insomma, io lo vedo però non lo so definire meglio. Si chiamano rivelatori gamma e il rivelatore gamma è quello che vedi alle mie spalle, è uno strumento particolarmente pesante in questo momento e sono posti in diversi, in Abruzzo l'abbiamo in diversi punti. Uno è qui, questo che vedi accoppito, l'altro si trova presso il laboratorio di fisica nucleare al Gran Sasso. Abbiamo la possibilità di poter correlare tra di loro tutte queste macchine e attraverso il segnale che viene inviato in questa sala e di avere la possibilità con 24 ore di anticipo la possibilità di conoscere l'intensità dell'evento e dove l'evento potrà verificarsi. È possibile che durante lo sciame sismico si possa verificare un evento di forte entità, ma non c'è niente a che vedere con lo sciame sismico. Durante l'arco dell'anno possono verificarsi dei terremoti molto forti, eppure non ci sono gli sciami. Questo per esempio è il grafico di coppito del rivelatore che abbiamo qui. Come vedete questo segnale che mostro, dov'è il precursore sismico? Il precursore sismico è inserito in questo segnale. Questo è il flusso misurato in questo posto del radon, possono verificarsi terremoti, ma non hanno nulla a che vedere con lo sciame sismico. Non solo. Gli eventi sismici che si producono sulla Terra dimostrano che la Terra è un pianeta vivo. Abbiamo detto che avvengono sempre con una certa frequenza e non sempre li avvertiamo. Abbiamo paura. Siamo terrorizzati quando l'evento sismico assume proporzioni di una certa intensità. È quello che ci fa paura. Però oggi noi sappiamo che il terremoto lo possiamo prevedere, anche se solo con 24 ore di anticipo. Questo ci dà la possibilità di poter rassicurare le persone. Spesso il terremoto non fa vittime. Ciò che procura le vittime è il panico che prende le persone e si comportano durante un evento sismico in maniera sconsiderata. Basterebbe mantenere più sangue freddo e forse ci sarebbero meno vittime. E il terremoto sarebbe anche meno pericoloso. Fa parte della natura. In una natura che ci contiene. Che noi viviamo. Quindi dobbiamo prenderla come... Quando piove usciamo con l'ombrello. Quando ci sono particolari condizioni disastrose, smottamenti. Sappiamo prendere delle precauzioni. Dobbiamo imparare a saper vivere insieme agli eventi sismici. Quello che vorrei dire ai miei concittadini e a tutta la popolazione è di stare tranquilli e di non aver paura dei terremoti. Questo sciame per la fine di marzo dovrebbe diminuire di intensità e quindi scomparire e rimanere soltanto un ricordo.